Musica Musica Grazie a tutti. I punti fondamentali sempre più in corsa per un posto nei playoff a sette giorni proprio dalla sfida cruciale contro il Real Amicite. Andiamo subito ad analizzare questo match con subito Eric Capri che si rende pericoloso con questa traversa di Federico. Arriva l'1-0 di Ciro Sapio che sblocca il punteggio 1-0 per il Frenza Zanzano che però subisce l'1-1 di Federico. Poco più tardi, sempre su questo lancio lungo, colpo di testa alla sponda e Federico trova il punto dell'1-1. Non si fa attendere però la risposta del Frenza Zanzano con questo tiro di Sapio ben parato. Lecoio non riesce a metterla dentro sulla ribattuta. Arriva subito il 2-1 del Frenza Zanzano con questa rete straordinaria. Bel gol di Rea che realizza il gol del 2-1 Frenza Zanzano che quindi ripassa in vantaggio. Arriva anche il 3-1 del Frenza Zanzano con Uva che realizza il gol del 3-1. Arriverà anche il 4-1 di Sapio che però realizzando questa bella rete si fa anche male ed uscirà dal campo. 4-1, 5-1 anche del Frenza Zanzano con Rocco, sempre in contropide. Sul finire della prima frazione di gioco i padroni di casa trovano anche il punto del 6-1 con Lecoio. Finisce il primo tempo con questa bella realizzazione del numero 9 arzanese. 6-1 del Frenza Zanzano con le immagini possiamo andare ad analizzare la ripresa con l'Olimpia Capi che attaccherà da sinistra verso destra e Frenza Zanzano da destra verso sinistra. Con questo subito arriva questo tiro pericoloso di Uva ben parato dall'estremo difensore. Arriverà anche il palo di Rocco su questa azione insistita di Rea. 7-1 di Uva si gira, prende la mira e trova il punto del 7-1. Poco più tardi gioia anche ancora per Rea che troverà l'8-1, partita mai in discussione per gli uomini di Napolitano. 8-1 per il Frenza Zanzano, arriverà l'8-2 di Acampora su questa azione contro ribattuta di Arrivo di 8-2. 9-2 di Narducci che mette anche il suo timbro a questa partita. 9-3 dell'Olimpia Capi sul tiro libero ancora di Acampora. Arrivo di là tocca ma non riesce ad evitare il gol. 10-3 di Montella poco più tardi che chiude definitivamente la partita qualora fosse mai stata aperta. 9-3, eccolo poi il gol. 9-10-3 di Montella, arriva anche il miracolo di Ambrosino che è subentrato ad Arrivo di durante la partita su questa azione dell'Olimpia Capi. Grande parata del numero 1 arzanese che si supera mettendo in angolo. e ne sul finire l'Olimpia Capi schiera è portata in movimento e trova Uva un gran gol del suo attivetta personale. Gollo dell'11-3 che confissa il punteggio. Tre punti pesanti per il Frenza Zanzano. La settimana prossima andrà a farvi sedere all'amicizia. La settimana prossima andrà a farvi sedere all'amicizia.